Quando uno sceglie di presentarsi per poter rappresentare il proprio comune è giusto che si ricordi degli spiriti degli antenati, un po' come facevano gli antichi romani. Per cui stamani ho voluto compiere questo gesto di rispetto nei confronti dei caduti castiglionesi, ma soprattutto di auspicio per un mondo di pace. Ha deposto un mazzo di fiori con i colori della pace al monumento dei caduti e poi ha sciolto le riserve. Paolo Brandi si presenta come candidato sindaco di Castiglion Fiorentino. Due erano le condizioni che io avevo posto, una che ci fosse una lista unitaria e una lista unitaria c'è e quindi sarà come dire uno scontro a due per quanto riguarda il comune di Castiglion Fiorentino. L'altra è che fosse una lista fortemente rinnovata e anche questa condizione mi pare in gran parte soddisfatta, per cui ho sciolto come si dice la riserva e scendiamo in campo. L'ex sindaco rappresenterà così l'alternativa all'attuale governo della cittadina della Valdichiana Aretina. Quello che mi ha spinto in modo particolare a impegnarmi in questa difficile campagna elettorale sono i numeri, i numeri che parlano più delle parole. Castiglion Fiorentino negli ultimi anni ha perso qualcosa come 83 imprese, ha perso qualcosa come 1000 abitanti, quindi sono segnali non belli, occorre un'inversione di tendenza, occorre darsi da fare perché questo comune ritorni al centro della Valdichiana. Un tempo era il polo produttivo della Valdichiana, oggi non lo è più, dobbiamo investire di più su occupazione, lavoro, formazione, tutte quelle cose che in passato hanno consentito a Castiglion Fiorentino di primeggiare. Castiglion Fiorentino